ciao sorella ciao ciao giuseppe allora che studiamo adesso apocalisse 5 ok che dio ci guidi nella lettura nella comprensione e nelle spiegazioni amen allora queste cinque un bel capitolo che facciamo come al solito prima lo leggiamo lo leggo e poi dopo lo analizziamo allora vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori sigillato con sette sigilli e vedi un angelo potente che gridava a gran voce chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli ma nessuno né in cielo né sulla terra né sotto la terra poteva aprire il libro né guardarlo io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro di guardarlo ma uno degli anziani mi disse non piangere ecco il leone della tribù di giuda la radice di davide ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli poi vidi in mezzo al sono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi come immolato e aveva sette corna e sette occhi che sono i sette spiriti di dio mandati per tutta la terra e gli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono quando ebbe preso il libro le quattro creature viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi essi cantavano un cantico nuovo dicendo tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato immolato e hai acquistato a dio con il tuo sangue gente di ogni tribù lingua popolo è caduta caduta la linea va bene dai sei rimasta verso 9 quando ti ho sentito io vero? ecco vado avanti da lì e parti dal 9 sì ok e si cantavano un cantico nuovo dicendo tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato immolato e hai acquistato a dio con il tuo sangue gente di ogni tribù lingua popolo e nazione e ne hai fatto per il nostro dio un regno e dei sacerdoti e regneranno sulla terra e vidi e udii la voce di molti angeli intorno al trono alle creature viventi e agli anziani e il loro numero era di miriadi di miriadi e di migliaia di migliaia e si dicevano a gran voce degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza le ricchezze la sapienza la forza l'onore la gloria e la lode e tutte le creature che sono nel cielo sulla terra sotto la terra nel mare e tutte le cose che sono in essi udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode l'onore la gloria e la potenza nei secoli dei secoli le quattro creature viventi dicevano amén e gli anziani si prostrarono e adorarono amén amén gloria gloria a dio allora sorella quindi cominciamo la diciamo lo studio l'analisi l'analisi è brava meglio meglio l'analisi l'analisi allora qua comincia così che insomma Giovanni dice vidi nella destra quindi Giovanni ha avuto tante visioni no e poi lui ha messo su insomma l'apocalisse che poi è stato diviso in capitoli quindi lui dopo le visioni già del capitolo 4 del trono di dio a un anno che abbiamo studiato no a questa visione quindi vide nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro di fuori con sete sigili allora quindi qua siamo sempre nel terzo cielo dove lui vede colui che sta sul trono che nel capitolo 4 chi è abbiamo studiato chi è che sta sul trono è Gesù no che stava sul trono e no lui vede dio aspetta ma cerchiamo di non far confusione lui vede dio sul trono perché sul trono c'è dio ah sì 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 è alla destra aspetta aspetta ma ci arriviamo sì insomma Stefano dice vedo Gesù alla destra di dio sì in questo capitolo acceneremo anche a questo discorso perché è inevitabile allora qua insomma vede sul trono chi sta insomma ah no sul trono sta dio sta 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 l'abbiamo visto nel capitolo 4 con un libro un rotolo libro sigillato con sette sigilli poi dice vede un angelo potente che gridava anche a voce chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli ma nessuno né in cielo né sulla terra né sotto terra poteva aprire il libro né guardarlo quindi nessuno conosceva il contenuto giovanni di piangeva dice io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo allora nel frattempo vai in ebrei sette per favore che ebrei sette quindi nessuno era degno di aprire il libro di guardarlo quindi nessuno conosceva il contenuto quindi solo ovviamente dio che è lui che ha questo libro in mano no quindi dio conosce il contenuto ma uno degli anziani mi disse dice giovanni non piangere ecco il leone della tribù di giuda il discendente di davide ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli allora leggi il versetto 14 di ebrei 7 ebrei 7 versetto 14 possiamo andare anche nel vecchio testamento però paolo qui insomma basa quello che dice sul vecchio testamento ok è noto infatti che il nostro signore è nato dalla tribù di giuda per la quale mose non disse nulla riguardo al sacerdotio ok qui paolo fa un bel discorso completamente diverso quello che faremo adesso nel capitolo 7 però ecco ho fatto ti ho fatto leggere sto versetto perché qua dice è noto che il nostro signore è nato dalla tribù di giuda sai le 12 tribù di israele c'era la tribù di giuda allora quando qua dice l'apocalisse giovanni uno degli anziani gli dice a giovanni non piangere perché giovanni piangeva dice nessuno poi è degno di aprire il libro il libro allora l'anziano gli dice non piangere ecco il leone della tribù di giuda il discendente di davide ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli quindi chi è questo qui che ha vinto dalla tribù di giuda il discendente di avide è gesù infatti leggi verso 6 poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi in mezzo agli anziani un agnello in piedi come immolato e aveva sette corna e sette occhi che sono i sette spiriti di dio mandati per tutta la terra ok quindi quindi allora qua giovanni vede un trono è uno che sta seduto sul trono che è dio col libro dei sette sigilli a un certo punto qua vede mezzo al trono e alle quattro creature viventi no abbiamo studiato nel capitolo 4 come formata i quattro cherubini vede una vede un agnello chi chi è l'agnello nella bibbia chi simboleggia quindi è gesù è gesù quindi che sembrava essere stato immolato cioè crocifesso immolato significa sacrificato la viscia quindi aveva sette corna e sette occhi che sono i sette spiriti di dio mandati per tutta la terra e quindi egli venne pre egli quindi l'agnello quindi gesù venne e presi il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono ecco perché all'inizio del capitolo ti ho detto chi sta sul trono tu mi hai detto gesù no è dio allora c'è un solo dio capisci abbiamo già però ecco c'è un solo dio però ecco anche qua in questo capitolo perché non possiamo dire che questi fatti qua che leggiamo sono simboli se non un simbolo la resurrezione tutto è un simbolo dobbiamo cercare di capire qua è una visione che giovanni va vede quindi questa scena che lui adesso vede un segnello che sta immolato quindi deve essere primo dopo che gesù è stato crocifesso e dopo e dopo quindi aveva sette corna e sette occhi che sono i sette spiriti di dio mandati per tutta la terra quindi egli venne e presi il libro dalla destra colui che sedeva sul trono quindi questo libro di sette sigilli quindi sul trono c'è dio quindi qua tangibilmente sono due capisci e questo è il discorso che ti voglio fare cioè c'è un solo dio però dio è trino e ne parlavo con la tua sorella la parola trinità non esiste nel vocabolato della bibbia ma è un modo per dire e per spiegare le tre figure le tre figure come la mano che c'è cinque dita però è una mano non cinque d'accordo quindi la parola trinità non esiste però cita la bibbia padre figlio spirito santo d'accordo quindi sono tre cose entrambe le cose gesù dice che sia lui che lo spirito santo procede da dio procedono da dio dice io sono proceduto da dio lo spirito mio che il padre manderà quindi queste cose vengono da dio quindi comunque l'abbiamo spiegato altra volta insomma c'è un mistero sulla detta che noi conosciamo in parte le cose e profetizziamo in parte dice paolo dice noi vediamo le cose a metà perché insomma abbiamo questo corpo di carne che un limite quindi riusciamo a capire dalla scrittura e dalla parola che secondo me la chiave sta in giovanni 17 quando gesù prega al padre e dice che fa la richiesta che diciamo quelli che il padre gli ha dato quindi chi sono la chiesa che sarebbero stati uno con lui come lui è uno col padre quindi c'è un solo dio sono uno nello spirito d'accordo quindi e poi c'è il mistero che la nostra mente non riesce a capire capisce il nostro limite d'accordo però lo spirito santo si fa capire che comunque attraverso queste scritture gesù pregava al padre d'accordo tutte le profezie anche dei profeti spiega come era profetizzato che dio dice manderò il mio servo e lui sarà il principe sarà il loro re sarà il loro pastore d'accordo io pascherò le pecore poi spiega come fa ma andrò il mio servo quindi la lode spetta dio perché lui ha organizzato la salvezza d'accordo però poi in isaia c'è un passo dove dice io farò di te la luce delle nazioni ci sta parlando di gesù quindi allora non siamo qui a predicare la trinità qua crediamo in un solo dio cioè la trinità è sbagliata nel senso se si pensa che ci sono tre dio no questo è sbagliato e c'è un dio d'accordo e che di dietrino però lo spirito santo abbiamo fatto uno studio dio parla del suo spirito e metterò il mio spirito loro quindi è lo spirito di dio se non credo non credo meno la scrittura io non vedo che lo spirito santo sia una persona una terza persona d'accordo tangibile come gesù il padre d'accordo dice che metterò il mio spirito d'accordo invece di gesù dice manderò il mio servo d'accordo ora gesù ha detto che lui è inferiore al padre però lui perché era in terra d'accordo lui davanti ai farisei lui diceva di non essere dio però pur essendo uguale a dio capisci quindi quindi capisci sorella allora qua vediamo che giovanni vede il trono di dio è un agnello immolato quindi l'agnello immolato è il crocifisso e gesù che poi va da colui che è seduto sul trono e chi è dio chi è il padre che gesù parla sempre del padre d'accordo e e prende questo libro dei sette sigilli e che dice che all'inizio di all'inizio di questo capitolo giovanni dice che il contenuto di questo libro versetto 3 nessuno né in cielo né sulla terra né sotto terra poteva né aprire libro riguardarlo quindi se nessuno poteva aprirlo né guardarlo nessuno tranne che dio conosceva il contenuto giusto certo quindi bene e qui facciamo una bella riflessione vai nel allora matteo 24 matteo 24 matteo 24 il sermone profetico no verso 36 verso 36 il riferimento a quello che gesù mostra del che sta tutto scritto nel capitolo del 24 il riferimento a questi eventi che lui scrive dice verso 36 sì ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa neppure gli angeli del cielo neppure il figlio ma il padre solo allora quanto a quel giorno a quell'ora quale ora l'ultima ora quindi il tempo dalla fine quindi tutti gli eventi che gesù descrive per esempio lui dice in luca 10 18 dice io vedevo satana cadere come una folgore cadere dal cielo cioè questa e lui ha avuto una visione futura d'accordo noi troviamo in apocalisse 12 se andiamo a vedere apocalisse 12 vediamo satana che viene schiacciato dal cielo mi segui sì sì stanno qua oh quindi te lo leggo no e leggelo dai andiamo vai fai un salto veloce in apocalisse ma sì sì a che allora apocalisse 12 aspetta te lo dico ci fu una battaglia nel cielo sì l'essetto 7 l'essetto 7 sì combatterono contro il dragone il dragone e i suoi angeli combatterono ma non vinsero e per loro non c'è non ci fu più posto nel cielo non cielo poi verso 9 il dragone serpente antico che è chiamato diavolo e satana che seduce tutto il mondo fu gettato sulla terra e con lui anche i suoi angeli sì quindi allora non c'è più posto non ci fu più posto per lui nel cielo quindi fu scacciato viene scacciato dal cielo qua capisci allora Gesù quando dice luca 10 18 e vedi satana cadere dal cielo come un fulmine come una folgore d'accordo e questa scena qua lui vede è quella scena lì questa futura allora Gesù aveva tutti i dole tra cui profeta era profeta d'accordo quindi vedeva lui ha visto parlando del tempo della fine tutte le cose che descrive soprattutto in mattia 24 ha descritto questi eventi che accadranno l'ultima ora quindi l'ultima ora del tempo della fine capisci ora i discepoli chiedevano quando avverranno queste cose perché loro pensavano che era nella loro generazione e allora Gesù gli risponde quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno sa quando avverranno queste cose nessuno lo sa neanche gli angeli del cielo neanche lui sapeva dice ma soltanto il padre d'accordo ora rileggi di nuovo Apocalisse 5 il versetto il versetto 3 dove dice riguardo il libro ma nessuno né in cielo né sulla terra né sotto la terra poteva aprire il libro né guardarlo ok allora i contenuti del libro sono praticamente tutto l'Apocalisse insomma gli eventi del tempo della fine capisci allora questi eventi dell'ultima ora del tempo della fine qui ancora Gesù doveva essere emolato quindi nessuno ha aperto il libro quindi solo Dio conosceva il contenuto quindi qua che dice Giovanni né in cielo né sulla terra né sotto terra conosceva il contenuto del libro quindi Gesù che dice Matteo 24 36 che nessuno conosce il contenuto il giorno quando avrà quell'ora né gli angeli in cielo quindi nessuno in cielo quindi ovviamente nessuno sulla terra e quindi solo il padre mio dice d'accordo è la stessa cosa qua che vede Giovanni quindi sta parlando dei contenuti di questo libro dei sette sigilli in questo qua momento che stiamo leggendo nessuno conosceva solo Dio conosceva il contenuto d'accordo poi però Gesù viene emolato d'accordo fa il sacrificio propezzatorio insomma porta comporta a combimento la sua missione d'accordo quindi poi Gesù ascende al cielo e questo che Giovanni qua vede un agliano immolato d'accordo che poi perché noi sappiamo che Gesù dopo un certo punto è andato al cielo d'accordo e poi torna e appare ai dodici discepoli perché qua nel capitolo 5 dice degno sei tu l'agnello di aprire i sigilli e poi di ricevere quelle sette cose che dovrebbero essere i sette spiriti di Dio no? mandate per tutto il versetto 6 no non è il versetto 6 dove lo dice? aspetta sì sì è 6 e aveva sette corne e sette occhi che sono i sette spiriti di Dio sì no dove fa l'elenco l'elenco ah l'elenco sì aspetta che l'abbiamo letto prima allora lo cerco mezzo altro uno allora è il dodici essi dicevano a gran voce sì sì brava segno l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode allora vedi se noi contiamo sono sette, l'abbiamo studiato l'altra volta nei primi capitoli dell'Apocalisse quindi questi casualmente sono sette, i sette spiriti di Dio dovrebbero essere questi che sono, noi crediamo che Dio ha un solo spirito, d'accordo? quindi dovrebbero essere sette qualità o virtù dell'unico spirito santo, d'accordo? quindi qua dice degno è l'agnello di ricevere quindi qua Gesù riceve ogni potere infatti va in Matteo 28, 18 qua in Matteo 28 siamo dopo la risurrezione di Gesù quindi Gesù risorge e torna da discepoli a pare e dice ok arrivo eh 18 e Gesù avvicinatosi parlo loro dicendo ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra ok quindi ogni potere gli è stato dato quindi quando gli è stato dato? cioè lui vince, tutto è compiuto dice l'ultima frase sulla croce poi dopo tre giorni risorge ok poi risorge e gli appare agli apostoli poi insomma sul monte degli olivi lui ascende d'accordo? no scusami sto facendo un po' di confusione io adesso no scusami perché quando dal monte degli olivi se ne va d'accordo? è l'ultima volta lì che lo vedono d'accordo? quindi prima di andarsi dal monte degli olivi lui appare diverse volte ai dodici tra cui questa qui di Matteo 28,18 è una delle diverse volte dove gli dice ogni potere mi è stato dato quindi Gesù il terzo giorno risorge e dove va? poi va al padre poi da lì poi appare no? può venire solo, può apparire, può fare quello che vuole no? quindi dice ogni potere mi è stato dato noi questa scena che gli viene dato ogni potere la vediamo qui in Apocalisse 5 dove c'è questo agnello che è immolato davanti al trono di Dio d'accordo? e fanno festa qua le quattro creature, gli angeli canticano un canto cantano un cantico nuovo dice tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione e ne hai fatto per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sulla terra d'accordo? questo perché come come diciamo sempre no? qua siamo tutti sacerdoti e sacerdotesse no? perché qua dice che Gesù con il suo sangue ha riscattato gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione e ne ha fatto per il nostro Dio un regno di sacerdoti d'accordo? c'è un passo di Pietro dove dice che siamo un sacerdotio regale d'accordo? sì mi pare primo Pietro 3 o primo Pietro 5, 9 mi pare aspetta primo Pietro 5, 9 aspetta come dovevo io? eccolo qua primo Pietro 5 non è primo Pietro 5 allora, no, è primo Pietro 2 ecco, versetto 9 dice ma voi siete una stirpeletta un sacerdotio regale una gente santa un popolo che Dio si è acquistato quindi come se l'ha acquistato? attraverso Cristo come dice qua in quali 6, 5 d'accordo? che si è stato immolato e acquistato a Dio con il tuo sangue quindi con il sangue versato d'accordo? ha acquistato chiunque crede in lui non c'è giudeo, greco, italiano, tedesco chiunque crede in lui di qualsiasi nazionalità tu sia d'accordo? riceve la salvezza questo sta dicendo quindi ha fatto per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sulla terra d'accordo? quindi regneranno non è adesso ma futuro d'accordo? sui nuovi cieli nuova terra poi insomma più avanti lo studieremo ok d'accordo? quindi è chiaro qui la cosa più importante secondo me è che si capisce che studiando questo capitolo che questo libro dei sette sigilli che sono praticamente tutto il contenuto che sta nell'Apocalisse sono gli eventi del tempo della fine d'accordo? che anche i profeti la maggior parte dei profeti tutti parlano del tempo della fine sai giorno del Signore giorno del Signore della Genesi capisci? certo quindi questo si ademperà tutte queste profezie si ademperanno nel tempo della fine d'accordo? che è il ritorno di Cristo quindi instaurirà il regno di Dio completamente sulla terra non ci sarà più il male d'accordo? ecco quindi tutte queste profezie si ademperano quindi tutti questi questi dettagli di questi eventi Gesù li ha accennati quando era sulla terra Matteo 24 anche altri capitoli lui ha accennato ai discepoli che sarebbero successi queste cose però dice lui ancora lì non era stato immolato quindi ancora lui non aveva preso qua il libro e ha aperto i sigilli capisci cosa ti voglio dire? sì quindi lui dal momento quindi adesso lui sa esattamente quando sarà adesso lui sa è certo che sa adesso lo sa e comunque oltre a questo sa anche i dettagli di più perché l'Apocalisse man mano che la studiamo ci rendiamo conto che Gesù per esempio Matteo 24 accennava tutto insieme tribolazione rapimento segni del tempo dalla fine d'accordo invece tutte le profezie se le mette tutte insieme l'Apocalisse capisce come lo dico sempre come una chiave profetica d'accordo riesce a mettere le profezie tutte in cronologia d'accordo ho fatto l'esempio perché l'altra volta l'abbiamo fatto che per esempio Nisaia parla di nuovi cieli nuova terra però non si capisce cosa avviene prima che invece sembra mischiato con l'Apocalisse sappiamo cronologicamente che viene prima prima il millennio e poi nuovi cieli nuova terra d'accordo quindi Nisaia parla del millennio scusa mi ho detto nuovi cieli nuova terra parla del millennio e poi di nuovi cieli nuova terra però sembra che parla prima uno poi l'altro poi l'altro poi uno capito mischiato quindi le profezie poi si mettono in chiave profetica cronologicamente ci vuole lo Spirito Santo ovviamente lo Spirito Santo ti parla e ti conferma attraverso sempre la parola quindi noi con l'Apocalisse ci viene dato ci viene dato tutto quello che ci serve sapere perché che dice Amos 3 sette il Signore Dio l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto o i suoi piani ai suoi servi i profeti d'accordo quindi senza altro prima Dio l'ha rivelato al figlio e poi lui l'ha rivelato a noi attraverso che siamo sempre i suoi servi capisci quindi noi siamo divinamente avvertiti come Noè perché Gesù cita i tempi di Noè d'accordo quindi dove siamo qua con la lettura eh praticamente hai detto quasi tutto cosa manca hai detto quasi tutto no guarda perché hai detto allora che è degno di prendere il libro poi sette spiriti quindi aspetta fammi dire un'altra cosa sempre riferimento a quello che dicevo prima perché i fratelli sanno gli viene in mente ma Gesù non ha detto che viene come un ladro perché è collegato lui dice nessuno sa quando avranno queste cose solo il padre lo sa poi lui avverte vegliate perché sai è come un ladro di notte no e allora però dobbiamo capire questo collegamento capisci perché Gesù poi dopo lui come un ladro nella notte poi dopo lui riceve i libri sette sigilli quello che lui prima non sapeva dopo lo sa d'accordo e poi lo rivela tra l'apocalisse quindi Gesù non viene come un ladro di notte per tutti l'abbiamo accennato l'altra volta lo accenniamo di nuovo vai in primo testo non incesti cinque questa non incesti cinque ok comincia a leggere verso uno sì quanto poi ai tempi ai momenti fratelli non avete bisogno che ve ne scriva perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte quando diranno pace e sicurezza allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta e non scamperanno ma voi fratelli non siete nelle tenebre così che quel giorno abbia sorprendervi come un ladro perché voi tutti siete figli della luce e figli del giorno noi non siamo della notte né delle tenebre non dormiamo dunque come gli altri ma vegliamo e siamo sobri amén quindi fermati qua perché può bastare Gesù dice vegliate perché non sapete né giorno né l'ora non significa che viene percomunato per tutti perché per quelli che vegliano Paolo che dice ma noi non siamo nelle tenebre non dormiamo che quel giorno ci deve sorprendere come un ladro e sai che adesso che abbiamo letto bello l'esempio come le doglie alla donna incinta perché quando sei incinta sai che c'è un termine della gravidanza quindi stai sempre attento soprattutto gli ultimi giorni l'ultimo mese e fai mille attenzioni sei con gli occhi proprio perché sai che l'evento è vicino hai capito quindi ti prepari tutto le cose del bambino devono essere pronte quello deve essere pronto bello questo esempio così dobbiamo essere noi è bravo hai fatto una bellissima riflessione perché poi la donna incinta sa che poi dopo 8 mesi c'è il parto quindi allora noi non sappiamo la data per esempio chi non sa la data attenzione cioè Dio la sa io sto parlando di noi noi per quello nonostante tutto ciò che ci è stato rivelato pur a Noè Dio gli disse manderò il diluvio preparo un'arca non è che gli ha detto fra 8 giorni esatto non gli ha detto giorno e ora poi Noè Dio prima che cadeva il diluvio avvisano E dice entra nell'arca che fra 7 giorni comincia il diluvio quindi allora capisci cioè il discorso di noi come un ladro Gesù dice vegliate d'accordo quindi chi veglia non verrà sorpreso quindi noi stavo dicendo noi non conosciamo la data per esempio della venuta l'anno di Cristo però Gesù ci ha dato dei dettagli e dei segni che quando tu vedi questi segni la generazione che vede quei segni mostra che quella generazione è quella generazione di cui parlano le profezie che stiamo studiando quindi anche se non sei la data tu sai che con la generazione la tua vita succederanno queste cose quindi io non ho bisogno di se io so che la mia vita la mia generazione in base ai segni dei tempi d'accordo e se so che quella è la generazione che Gesù torna io non ho bisogno di sapere a che data viene l'anno di Cristo d'accordo io mi preparo perché mi organizzo e veglio in questo senso come una donna che sta incinta d'accordo capito e quindi e non rimanerai neanche sbalordito e non rimani neanche sorpreso perché te lo aspetti eh sì però se invece tu non ci pensi vabbè se succede succede tu prima o poi sarai distratto quando succede qualcosa tu sei distratto da un'altra cosa per forza capisci perché faccio un esempio per capirci che noi non sappiamo la data però noi sappiamo da altre profezie che l'anno di Cristo farà un patto di sette anni d'accordo poi man mano che arriviamo le studiamo queste io le sto citando poi le studiamo farà un patto di sette anni e di sette anni ebraici sono cinque mila scusami due mila e cinquecento venti giorni sette anni ebraici va bene se fai un calcolo i fratelli possono controllare mesi due mila e seiccento venti giorni due mila e cinquecento venti giorni perché tre anni e mezzo tre anni e mezzo quindi anni ebraici quindi mesi di trenta giorni stiamo parlando eh non il calendario gregoriano il calendario ebraico c'ha mesi da trenta giorni se tu fai un calcolo eh sette anni sono esattamente due mila e cinquecento venti giorni d'accordo quindi noi vediamo le profezie per esempio in Apocalisse 12 o anche in Apocalisse 13 che dice che la bestia avrà potere di operare quarantadue mesi eh e che la donna fuggirà nel deserto per mille e duecentosessanta giorni allora sempre calcolatrice alla mano chi sa fare i colcoli senza calcolatrice è lo stesso eh quarantadue mesi ebraici da trenta giorni sono mille e duecentosessanta giorni di cui parla l'Apocalisse 12 che la donna va in un posto preparato da Dio per essere protretta e nutrita per mille e duecentosessanta giorni che sono esattamente tre anni e mezzo quindi i tre anni e mezzo e il doppio sono sette anni quindi il doppio di mille e duecentosessanta giorni quanto fa? due mila e cinquecento due mila e cinquecento venti giorni quindi questo sto dicendo noi non sappiamo la data che arriva l'anticristo però sappiamo d'accordo che appena appare passeranno due mila e cinquecento venti giorni dopodiché accadrà un evento che non voglio annunciare adesso lo voglio annunciare ma che lo studiamo dopodiché avverrà un evento grandioso glorioso che tanti aspettano da sì con lui d'accordo? sì capisci? quindi non so la data ma io veglio e mi preparo perché so che accadrà nella mia vita perché questo significa vegliare e vigilare se tu vedi i segni dei tempi perché Gesù dice voi sapete riconoscere le stagioni d'accordo? quando viene a piovere quando sai ci sono dei segni che tu vedi sai si dice che quando la luna la sera che ne so oppure quando la nuvole è velata dici che domani piove oppure quando ci sono le nuvole a pecorelle piogge a catinelle cioè tutte queste cose qua in parte ci sono delle cose vere tu puoi vedere dai segni del tempo se domani piove se domani fa bel tempo allora Gesù dice voi sapete fare queste cose dice e non sapete riconoscere i segni dei tempi allora Matteo 24 all'inizio del capitolo parla dei segni del tempo della fine cioè i segni che preannungiano l'ultima generazione allora Gesù dice quando vedrete tutti questi segni adempiti quella generazione non passerà cioè significa che non ce ne sarà un'altra dopo quella è l'ultima cioè l'ultima che significa che poi dopo quella comincia il regno di Dio quindi buona notizia capisci? capisci? capisci sorella? quindi i segni sono guerre remoduguerre terremoti cioè questi qua e poi lo studiamo e nell'ultimo secolo d'accordo? queste cose sono successe a dismisura e tutto in una generazione se calcoliamo che è una generazione biblica è cent'anni perché dico questo? perché nell'esodo quando Dio manda Mosè dopo quattrocento anni a liberare gli ebrei dagli egiziani lui lo profetizza dice dopo quattrocento anni alla quarta generazione manderò Mosè quindi se tu dividi quindi sono cento anni ogni generazione quindi se ci basiamo su questo la generazione biblica sono cento anni quindi Gesù parla di generazioni quando vedrete tutti quei segni quella generazione non basterà cioè non ce ne sarà un'altra alla fine di questi segni cominciano tutti gli eventi del tempo della fine quindi l'antichristo ci sarà rapimento tribolazione ira di Dio poi li studiamo in cronologia e tutto d'accordo? quindi accadranno tutti questi eventi d'accordo? e quindi non dobbiamo prenderci paura è il ritorno di Cristo è il regno di Dio sulla terra quindi la sconfitta completa del male e dell'oscurità noi questo aspettiamo d'accordo? quindi non dobbiamo vedere queste cose con paura ma d'accordo? ma noi aspettiamo la liberazione d'accordo? da questo mondo che ogni giorno qui oramai non si capisce più niente tutto tutto peggiura dismisura capito? adesso se prima sentivi un bambino ucciso ogni tanto ogni giorno senti ucciso un bambino a destra accolterlato un bambino a sinistra ma insomma il male il male sta prendendo potere però sempre attenzione con la collaborazione dell'uomo perché è l'uomo che uccide ammazza capisci? però questi sono anche segni dei tempi capisci? allora non sappiamo la data ma se riconosciamo la generazione poi noi studieremo e questa che stiamo vivendo l'ultima generazione noi sappiamo che nella nostra vita tornerà Gesù d'accordo? ma tornerà Gesù ci saranno non solo questi eventi ci saranno anche altri eventi prima e dopo il suo ritorno d'accordo? belli e non buoni ma chi si troverà d'accordo? i figli di Dio si devono preoccupare di seguire la sua voce d'accordo? nel frattempo mi dita giorni e notti la parola sì sì è finita? ok non arrivo è mia moglie che ha finito dalla parrucchiera è venuta è venuta la parrucchiera in casa e mi stava avvisando che se n'è andata va bene capisci sorella? sì quindi ok allora senti no 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 nel senso no mi sembra che è tutto chiaro sì dove diceva che sono le preghiere dei santi aspetta ciascuno con una cetra delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi vuol dire le preghiere che e chi sono i santi nella Bibbia? che i credenti hanno sempre fatto allora i santi che sono i cristiani no? sì quindi noi quando preghiamo poi lo studiamo in Apocalisse nei paresetti dove parla di queste coppe d'oro dove ci sono le preghiere dei santi come un profumo che gli angeli portano al trono di Dio ah ok d'accordo però sì le nostre preghiere arrivano a Dio sui scienziari d'oro che insomma gli angeli si occupano qua noi vediamo qua che queste quattro creature quattro cherubini guidano un po' alla lode perché noi vediamo che anche se studi bene Apocalisse 4 l'altra volta l'abbiamo studiato e anche qui vediamo che quando le quattro creature dicono qualcosa a me anche gli anziani poi si prostano ad adorare tutti gli angeli adorano quindi un po' questi qua guidano l'adorazione quindi gli angeli poi sono anche al servizio di Dio quindi si occupano di quelli che devono ereditare la salvezza no? e quindi le preghiere dei santi arrivano al trono di Dio Dio ha i suoi angeli che gli portano le preghiere di Noemi di Giuseppe di tutti d'accordo? di tutti quelli e arrivano le preghiere fatte col cuore arrivano al trono di Dio capisci? non una preghiera mentale una preghiera egoista una preghiera potente fatta con la preghiera più potente non è di troppe parole ma magari due o tre parole fatte col cuore che cento fatte così per far vedere che sei bravo tanto per fare capisci sorella? quindi va bene questo capitolo ci fa capire che Gesù che significa quando Lui diceva sulla terra che nessuno sa nessuno sapeva adesso però quando Lui è risorto qua vediamo questa scena che va davanti al trono di Dio riceve ogni potere perché poi Lui appare e dice ogni potere mi è stato dato d'accordo? e conosce poi i contenuti del libro d'accordo? che Lui aveva ricevuto già delle visioni che Dio gli aveva dato per esempio Satana che cade dal cielo che sta in Apocalisse 12 gli eventi della tripolazione che stanno Apocalisse 8 9 10 11 sempre 12 anche 13 ok? poi cita anche l'ira di Dio che comincia ad Apocalisse 15 quindi Lui ha dato solo degli accenni nell'Apocalisse invece ci dà tanti tanti dettagli di più che si collegano con tutte le altre profezie del Vecchio Testamento dei profeti che parlano del tempo della fine capisci? quindi dal sesto si apre il primo dal sesto parliamo del contenuto dei segili i famosi 4 cavalli dell'Apocalisse sono i primi 4 e là c'è un bello studio che facciamo quindi dal capitolo 6 entriamo un po' nel vivo del discorso profetico quindi il capitolo 1 è un capitolo di presentazione il capitolo 2 e 3 parla delle chiese delle sette chiese quindi comunque è bello il corpo di Chiesa più via avanti ti accorgerai che più è bello capisci? si prende proprio quindi capitolo 4 capitolo 5 Giovanni vede in visione il trono di Dio vede come funziona l'adorazione gli angeli i cherubini e poi vede come è fatto il trono cerca di descrivere come può secondo la sua la conoscenza umana d'accordo? quindi il crisolito l'arcobaleno d'accordo? cerca di descrivere poi vede questa scena un agnello immolato nessuno che poteva aprire il libro piangeva poi c'è un anziano che dice non temere Gesù ha vinto ed è degno di aprire il libro allora speriamo di farlo presto che è bello si dai anche martedì lunedì possiamo farlo d'accordo? si 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 d'accordo sorella va bene ti saluto per i fratelli se ci sono domande o qualsiasi cosa sempre approfondimenti chiedete scriveteci ok? Dio vi benedica Dio ti benedica sorella un abbraccio ciao e saluto a tutti ciao ciao grazie ciao ciao